bella a tutti ragazzi benvenuti sto parlando così e oggi ho trovato il baule leggendario e lo devo aprire con voi però tenendo questo clan che i bauli si fanno stra mega facili e adesso apro il baule questo qua sarà un piccolissimo video per trovarne la leggendaria almeno con voi perché guardate io ci metterò il 2 il minatore al 1 3 2 1 l'apro siiii lo stregone elettrico ragazzi andiamo lo stregone elettrico dov'è sì cacchio volevo avercelo questa qua la rietta da battaglia ce l'apremo e dovremo questi baule non ci faccio niente però sì ragazzi abbiamo trovato il baule leggendario per fortuna l'abbiamo trovato perché non mi serviva però sì mi serviva però speravo di magari trovare qualcos'altro però lo stregone elettrico ragazzi una bomba magari anche il minatore al 2 perché io ho trovato un cemitero ci mettendo il baule maggio scusate baule maggio ho trovato praticamente ragazzi non so come l'ho trovato soldi soldi poi ho trovato dopo i soldi una comune e poi la cemitero quindi è proprio rara che l'ho trovata e poi il minatore ovviamente in un baule leggendario ciao ci vediamo al prossimo video ovviamente lasciate un like iscrivetevi al mio canale e ciao turutano tutti